natura libertà e mountain bike sono in cima alle tue passioni allora sei uno di noi the king mtb è la grande famiglia degli appassionati di mountain bike con noi puoi vivere e condividere nuove esperienze in sella la tua bici sei un amante dell'adrenalina pura o ami semplicemente evadere dalla città e goderti lo spettacolo della natura non fa alcuna differenza the king mtb mette d'accordo tutti con la tk card hai accesso ad una miriade di servizi esclusivi grazie alla nostra fitta rete di local hero abbiamo selezionato i percorsi più belli ed emozionanti e li abbiamo abbinati ad esperienze uniche alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze per vivere i luoghi come un vero local e non è tutto organizziamo eventi corsi di apprendimento e frequentando la nostra academy puoi migliorare le tue performance grazie ai nostri esperti istruttori the king mtb è una start up che mira a diventare una realtà solida siamo riconosciuti a livello internazionale e in continua espansione con noi hai anche l'opportunità di investire nella tua passione aderendo al nostro crowdfunding abbiamo un piano che sviluppato genera un roi di 8,5 v part of the family contattaci per ricevere più informazioni